Siccome è già la seconda volta in due consigli che viene presentata qua, un'emozione, un'interpellanza, eccetera, in cui si richiede sostanzialmente di vietare il gioco della palla in alcune piazze genovesi, Genova è una città che non ha spazi, i nostri bambini, i nostri ragazzi sono sempre meno abituati a confrontarsi con i pari, ad uscire, a giocare liberamente, eccetera. Invece di preoccuparci, di restituirli, come è giusto, degli spazi dove poter giocare a palla, cerchiamo di toglierli quei pochi che ci sono al gioco della palla. Io capisco che ci possono essere dei problemi collaterali, ma piuttosto affrontiamo questi in modo tale che loro possano dover utilizzare a pieno le piazze e i pochi spazi che abbiamo a disposizione. Per questo oggi ho portato la palla, perché siccome era la seconda interpellanza su questo, invitavo i bambini e i ragazzi a venire a loro in consiglio comunale, che d'altronde è loro, e quindi che vengano qua a giocare a palla. Premetto che ho due bambini, due ragazzi che adorano giocare al pallone, anzi purtroppo giocano anche in casa, quindi capirete che danni mi creano, quindi assolutamente il senso non era quello giusto di essere la sceriffa, assolutamente no. Sapete che io appartengo alla lista civica di Vince Bucci, quindi il mio lavoro viene sempre fatto in senso civico e senza strumentalizzare nulla. Quindi come mai è nata questo mio intervento in aula? Perché una cittadina giustamente mi ha segnalato che aveva avuto un incidente parecchio grave proprio in piazza Martinez, perché la palla era andata per la strada e quindi col motorino era caduta. Quindi naturalmente io faccio il consigliere comunale in questa maniera, ascolto ogni singolo cittadino e ogni singola esigenza. Naturalmente è vero, qua c'è il dramma di scegliere, vietiamo il gioco della palla che effettivamente per i ragazzi sarebbe assolutamente dannoso e non sarebbe un'altra cosa, però cosa facciamo? Facciamo che un'altra cittadina possa magari rischiare anche una frattura, non voglio pensare assolutamente alla vita, ma una frattura perché il gioco della palla causa anche possibili cadute dai motorini. Come ho detto però in aula penso che il team degli assessori troveranno la soluzione migliore, quindi sempre per cercare di accontentare i cittadini genovesi. L'importante però è fare questo genere di segnalazioni, perché Genova meravigliosa può diventare più meravigliosa anche proprio grazie a queste segnalazioni e invito tutti a farmele.